Ormai ci siamo, stasera il taglio del nastro e subito dopo la partenza per Pieve di Cadore, Veneto, destinazione e ritiro del Bari. La ritirata prepara i bagagli. Il format targato .tv da lunedì sul canale 660 e in streaming su www.tvonline.it racconterà l'avventura del Bari che si prepara un grande campionato con novità, curiosità e tante interviste. Il format storico, già premiato su scala nazionale con il TV d'oro mille canali, capitanato dal giornalista Max Sisto, in squadra vede uomini del calibro di Salvatore Guastella, ex difensore del Bari, e Giovanni Abaticchio, autore già nella squadra Rai di sfide. Dal 14 al 28 luglio alle 20 ed in replica alle 23, alle 8 e le 14.45, un racconto dettagliato del lavoro quotidiano dei Biancorossi di Davis Mangia, senza dimenticare lo spirito goliardico che ha portato a successo la ritirata nelle precedenti edizioni. Stasera è il taglio del nastro del format, presso il roof garden del ristorante e due ghiottoni di Bari. A seguire la partenza per due settimane tutte da raccontare, con immagini, interviste, inediti, speciali e tante sorprese. In anteprima la sigla della trasmissione, che da lunedì i tifosi del Bari e non solo, potranno gustare su Punto TV. Questa estate voglio andare al mare, seguire anche la Bari, bianco rosso nel cuore, la squadra è già in montagna, per la preparazione. Questa ritirata è tutta un'altra storia, è un sentimento che non si spiega con me, esce da qui dentro ed è sempre con me. Nonostante tutto sono stato con te, bianco rosso nel cuore, bianco rosso nel cuore, bianco rosso nel cuore.